Ieri è stata approvata in seconda approvazione una modifica allo Statuto regionale con la quale abbiamo cercato di disincentivare i famosi cambi di casacca che purtroppo hanno flitto anche questa legislatura regionale con diversi consiglieri che non solo hanno cambiato partito ma addirittura sono passati dall'opposizione alla maggioranza. Questo è veramente un dramma perché i cittadini esprimono un proprio voto che puntualmente viene tradito per cui abbiamo previsto che sia nelle commissioni consigliari ma anche nell'ufficio di presidenza il vicepresidente e il presidente debbano decadere qualora decidessero di cambiare gruppo consigliare.